1 contro 1 con Renzi vedo lato lo scarico per Brown che si prende il tiro dalla media atto con Landy, Roma è già dall'altra parte, Bandasso si prende la tripla, assegno! Si va ancora da, e che sa, il quale si alza da tre punti, assegno! Cosa di Trapani, lo scarico nell'angolo per Bandasso che va da tre, assegno! Conferro, ottimo ribalzo di Bandasso, schiacciato per Brown che va a realizzare! Alessi De Landy il quale con coraggio vuole 1 contro 1, si libera della marcatura di Filloi 12 secondi per questa azione d'attacco per Roma, si alza Landy per il lotto, assegno! Domenica scorsa poco incisivo, intanto si alza la palla sotto per Benetti il quale si alza, assegno questa volta! Brown, poi ancora per Raffa il quale deve forzare da tre punti d'attacco! Maresca per la tripla del Kamikaze, assegno! Con la fine del quarto, per la Virtus, Brown per il lotto, assegno! Sandri subito contro Pier di Roma con Benetti che va a inchiodare! Fa da tre, tiro è lungo, l'abbiamo visto subito ma c'era in balzo di Brown il quale fa la voce grossa del pitunato e con la mancina! Aprile Ganeto, assegno con questo tricca che rimette tutto in discussione, ci prova Benetti da tre! Capità Maresca si va da Landy che si alza da tre punti, ha da tre! Assista da giocate, veramente di alto livello dalla parte e dall'altra! Capitano Maresca, quale prova ad andare dretto? Arresto, tiro, canestro del capitano! Fa la canestro maschera, abbiamo bisogno, tiro da tre punti di Aristide Landy, assegno! Chessa sotto, questo è un gran passaggio di Chessa per Brown che segna! Subisce il fallo! C'è il tiro del kamikaze che non va a grano in balzo di Brown che va a segno! Le mani di The Man si va da Chessa da tre, da tre! Recupero di Daniele Sandri, lo scarico per The Man Raffa che spagna! Brown e lui è in balzo! Rotti da doppio confronto, palla sotto per Brown che inchioda il punto esclamativo! Al palazzetto dello sport di Vietiziano, la Unicusano di Intus Roma, 98, trapani basket 84!